e poi lo dico ma fissi di me ma come si pareva il cuore perché mi avevo fatto in azione questo è un salto di qualità questo è un video stava partendo la canzone e dai dai fin dall'inizio dedica ce n'è una dai la situanza sono bella oh oh carlo è andato come è l'acqua verde è il video è una besta è una besta è una besta we are you oh 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 arrivano rinforzi arrivano rinforzi sono rinforzi l'hai visto? andiamo a ballare che bravissima guarda che pure non si sa chi si sa? come facevano un caffè ah lui è grande questo è un caffè professionale uuuuuh uuuuh uuuuh dai facciamo i cartelloni uuuuh troppo dico bene uuuuh vai 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 le fanzie uuuuh 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 užizione chi ci si uuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh Grazie per la visione!